E allora ve li vado a presentare uno per uno perché se lo meritano Ha soltanto 12 anni Ma una lunga carriera davanti a lui E il piccolo del gruppo ma diventerà un grande Alla batteria, Samuele Mattia! E qua vicino a me Il basso, no? Il basso è uno strumento importantissimo Per il ritmo Ha un piccolo difetto È tifoso dell'Inter Ma lo perdoniamo Lo perdoniamo Al basso Nino Pollone! L'altro giorno ho fatto una scoperta Ho un parente Un po' lontano Ma è parente mio Alle tastiere Occhialuto come me Mister Crimi! Alla Chitarra elettrica E al capello Perché ho ben capelli Sotto il mio braccio Mister Moreno Badia! Oh! Andare! Chiava siete bravi ragazzi Vi voglio bene Allora Adesso siamo arrivati all'ultimo No perché è l'ultimo Anzi Lui è il leader E sapete Ha 20 anni E' un po' a gestione familiare Però è bello anche questo Alla chitarra elettrica E' il numero uno Mister Simone Badia! Calma ragazzi Calma Ecco arrivato a sto punto Dovevamo fare il pezzo finale Urlando contro il cielo Tutti a saltare Però mi sembra doveroso Siccome qua ci sono tre fratelli Che hanno anche un papà Che fa uno sporco lavoro E al buio Non è sotto ai riflettori Ma questo non vuol dire Che non ha Un lavoro importante Al mixer Il papà Mister Antonio Badia Urlando contro il cielo Contro il cielo Contro il cielo Contro il cielo Grazie Grazie ragazzi Grazie ragazzi Ora arrancete Scusa Scusa